Ciao, sono un astronauta Luca Parabitano. Dopo tre settimane in quarantena e 200 giorni in isolamento sulla Stazione Spaziale Internazionale, sono rinintrato sulla Terra e adesso sono in isolamento volontario per dare il mio piccolo contributo per evitare l'allargarsi del contagio del coronavirus e ho scelto di seguire le indicazioni e le autorità preposte che ci invitano a uscire solo per motivi indispensabili, lavarci spesso le mani, evitare il contatto e di utilizzare ad esempio il falso rettimo uso. Noi italiani amiamo la vita all'aperto, amiamo un aperitivo, una pizza, una serata con gli amici, ma questo è un momento di fare magari un piccolo servificio per pensare al bene comune. Forse è anche il momento di approfittare per restare a casa, leggere un buon libro, ascoltare la buona musica, passare il tempo con la famiglia, qualcosa che può darci grande sconfersione. Noi siamo un grande popolo, siamo tutti uniti e insieme ce la faremo, passeremo anche a questa. Io resto a casa. Noi siamo un'ottima sempre. Noi siamo un'ottima. Noi siamo un'ottima. Grazie a tutti.